11 ottobre, notte bianca qui al Vomero, terza edizione, ci troviamo nel Baranna di Via Cilea in compagnia di Enzo. Ad Enzo chiediamo che cosa ne pensa di questo evento, se è favorevole o contrario? Siamo favorevoli di questo bel evento, speriamo che si ripeta in modi migliori. Perfetto, allora suppongo che Enzo voglia suggerire qualcosa di particolare per migliorare questo evento. Quest'evento bisogna mettere due servizi in geni CBU e fare scendere un po' di gente verso Via Cilea. Ricordiamo che Via Cilea per il momento sembra non sia coinvolta nella chiusura al traffico. Il Baranna che cosa offrirà per la notte bianca, un evento ormai consolidato nel quartiere? Abbiamo fatto una buona iniziativa, abbiamo fatto delle graffe fritte, offriamo delle graffe fritte, abbiamo pigliato un personale adeguato per dar sì che la gente mangia la graffe di notte calda a Via Cilea, mai mangiata. Perfetto, allora tutti qui per mangiare una calda graffa nel Baranna. Per Napoli Flash 24, Enzo e Baranna è tutto.